Aieta, Cosenza. L'Associazione Melodie del Borgo Aieta promuoverà la trentesima edizione della Festa Europea della Musica, la seconda per l'Associazione di Promozione Musicale. L'appuntamento è per il 21 giugno, alle ore 21 e 30, presso il Palazzo Rinascimentale. Abbiamo scelto una location scrivono dall'Associazione che identifica il nostro borgo, il nostro popolo e la cultura della nostra terra, il Palazzo Rinascimentale di Aieta. Artisti e musicisti locali si esibiranno in performance musicali amatoriali e daranno vita a questa notte di festa, che celebra la musica, in ogni suo genere, come arte e strumento di unione dei popoli, messaggera di pace.